Ciao ragazzi, mentre mi stavo allenando questa sera mi sono soffermato qui davanti a questo cartellone e stavo leggendo che mercoledì 19 agosto ci sarà un nuovo film di Tom Cruise, Mission Impossible. Stavo riflettendo sull'età dell'attore che ha circa 53 anni e nonostante abbia questa età così avanzata ho notato che era molto in forma e quindi pensavo che a 53 anni avendo comunque un bel fisico avendo curato quindi sicuramente l'alimentazione e lo stile di vita sano quindi evitando soprattutto zuccheri limitate ragazzi lo zucchero che può diventare può avere degli effetti simili a quelli della droga quindi io eviterei gli eccessi di qualsiasi cosa in generale principalmente delle farine raffinate che sono comunque anche cancerogene e via dicendo quindi soffermandomi qui a questo tabellone stavo notando che c'è anche la possibilità di allenarsi qui su questo cartello giusto per vivere potete inventarvi qualche cosa potete allenarvi dove volete non potete avere bisogno per forza di una palestra non tutti purtroppo al giorno d'oggi soprattutto con la crisi se lo possono permettere quindi io vi consiglio innanzitutto di allenarvi il più possibile facendo cose che vi piacciono tutto ciò che che vi appassiona che vi piace io vi consiglio di farlo perché è molto importante allenare fortemente grazie ancora per l'attenzione ci vediamo nei prossimi video un saluto a tutti voi un abbraccio a lui ciao